I dati shock dell'Inps sulla richiesta di cassa integrazione da parte di aziende della provincia di Treviso sono il segno del momento difficilissimo che molte imprese stanno vivendo, alle prese con la crisi energetica, la carenza di materiali ma anche di commesse. 390 le richieste di cassa integrazione nelle prime due settimane di ottobre, erano 317 in tutto il mese di settembre. Una cassa integrazione che è la conseguenza di una crisi energetica e del gas, importante per il quale crediamo a gran voce che sia il primo importante passo e atto che faccia il nuovo governo. La richiesta delle imprese al governo che sta per nascere è forte, bisogna fare presto perché i rischi che corre il sistema produttivo sono altissimi. Le aziende in molti casi non riescono più ad andare avanti con questi costi dell'energia e del gas. Allo stesso tempo per alcuni settori c'è anche un momento di calo della domanda e quindi questo mix porta purtroppo ad alcuni dati. Altre aziende però invece viceversa stanno andando anche molto bene ma hanno bisogno di chiarezza e soprattutto di avere costi sicuri e certi perché sennò è difficile navigare in queste acque. Io penso che bisogna salvare il sistema manifatturiero del nostro paese perché se non salviamo il sistema manifatturiero del nostro paese a cascata abbiamo un grande problema.